I cinque passi fondamentali per raggiungere il successo nella vostra impresa. Primo passo Un clima rilassato di mutua fiducia e collaborazione, che come risultato porterà tanto i vostri dipendenti come i vostri soci a cooperare e lavorare meglio, ed i clienti a scegliervi. Dovrete avere tatto e stile e far sentire ad ogni vostro impiegato non soltanto che è utile, ma che è addirittura indispensabile. In questo modo sarà possibile che lavori apportando di suo idee e contenuti innovativi. Secondo passo Tenere un'amministrazione economica e finanziaria prolissa vi permetterà di evitare inutili inversioni, investendo unicamente in ciò che risulta giorno dopo giorno più remunerativo, e ciò vi consentirà di raggiungere il successo nella vostra impresa. Ne consegue che i finanziamenti, oltre che essere mirati, non debbono mai superare le proprie capacità economiche. L'ambizione sfrenata non premia mai a lungo termine. Ad una fase di espansione dei mercati ne può seguire una di contrazione, ritrovandovi voi conseguentemente pieni di debiti ed in probabile cammino verso la bancarrotta. Il terzo passo consiste nel mantenere ordine nella vostra impresa. Questo vi permetterà di raggiungere il successo nella stessa impresa che voi gestite. Infatti l'ordine è la chiave maestra per raggiungere una efficace amministrazione empresariale. Quando dico ordine, intendo tanto l'ordine nella disciplina contabile come nella gestione del magazzino o deposito, della merce, dei prodotti di pulizia dell'azienda e nella disciplina dei lavoratori. Non trovare le cose al loro posto è una perdita di tempo. Ed il tempo è denaro. E se si lascia attendere troppo i clienti, questi possono decidere di andarsene altrove. Questo valga anche per l'igiene del locale, soprattutto dei sanitari e della cucina nei locali di ristorazione. Quarto passo. Lo so che per molte e molti di voi l'apparenza della vostra impresa è l'ultima cosa alla quale pensare, soprattutto in questi momenti economicamente travagliati. Ma lasciatemelo dire, invertire nell'innovazione significa invertire per raggiungere il successo nella vostra impresa. Le cose nuove si vendono più meglio e si vedono più attraenti. Per questo si vendono meglio. E se la vostra impresa è di stampo tradizionale, si può sempre rinnovare mantenendo e rispettando gli stessi criteri estetici. In fondo pensateci un po'. Voi stessi non vi stancate mica di frequentare gli stessi luoghi con le stesse offerte? Se rinnovare l'aspetto dell'impresa, il suo servizio e o i prodotti offerti in accordo alle esigenze del mercato, vi permetteranno di raggiungere un sempre più vasto bacino di utenti e di vedere incrementati i guadagni. Quinto e ultimo passo. E siamo arrivati all'ultimo punto per poter raggiungere il successo nella vostra impresa. Crescere ed espandersi. Se il vostro locale rimane piccolo per le vostre esigenze, dovrete o passare ad uno più grande o affitarne un altro per poter attendere nella vostra impresa o locale il maggior numero di clienti possibile. Un altro modo di crescere e raggiungere il successo consiste nel vendere il franchising della vostra impresa o da attività commerciale. Ciò vi permetterà di incrementare la vostra attività con guadagni addizionali, visto che per l'utilizzo del franchising dovranno darvi una percentuale dei loro guadagni per poter sfruttare commercialmente il nome ed apparenza della vostra impresa o locale e per offrire un servizio analogo al vostro. Bene, care amiche ed amici imprenditori, spero che questo video tutorial vi possa servire di aiuto per accrescere la vostra attività produttiva o uscire fuori da difficoltà. Se questo video vi è servito, mi raccomando, dategli like, commentate per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo. Iscrivetevi al mio canale di YouTube Sant'Enchan nel quale starete guardando questo video, azionate la campanella per gli aggiornamenti e poi vi invito anche a guardarvi tutti gli altri miei video che ho caricato nel mio canale di YouTube Sant'Enchan a dargli like, commentarli e se potete condividerli. Ciò aiuterà il mio canale a crescere e aiuterete anche a me. Ma mi raccomando, nei commentari fatevi sotto, cioè commentatemi se questo video vi è piaciuto, vi sembra interessante e in questo modo mi incentiverete a fare altri video come questo che è il primo che faccio con solo voce. Per cui è la prima volta, a parte i radioprogrammi caricati da Spreaker, che non mi vedete parlare in camera né che faccio un live streaming. Questo per rendere più veloce la produzione del video e arrivare all'essenza del contenuto, senza perdere troppo tempo in edizione. Quindi se questo genere di video vi piace, se ritenete che questi argomenti vi piacciono, io ne farò altri. Fatemelo sapere nei commentari. Molte grazie e alla prossima. Poi vi consiglio di guardare i video che metterò fra i video consigliati e fra le anteprime. Ciao ciao, dal vostro Sant'Enchan. E buona impresa a tutti!